Siamo con Nando Del Sole, uno dei protagonisti di questa partita, una partita decisa dalle sostituzioni del tecnico Pilon perché sono entrati in campo Crecco, Del Sole e Monachello e nel finale di partita si è visto un altro Pescara. Sono contento di essere ritornato in campo, in un campo molto difficile, è stato molto bello ritornare di nuovo in campo. Un'atmosfera caldissima nel finale, avete avuto le occasioni prima con Crecco, poi con Gravione, poi c'è stato questo gol contestato dal Cosenza ma sembra che il pallone abbia superato la linea bianca. Nando, che cosa è successo in quei momenti in campo? In quei momenti non riuscivamo a capire chi stava lontano, chi stava vicino, ma l'importante è che la palla sia entrata perché meritavamo assolutamente il pareggio. È stata questa la partita, è stato questo il pareggio della volontà, ci avete creduto fino alla fine, avete attaccato, non è stato il miglior Pescara quello di questa sera ma avete attaccato fino al novantesimo, avete trovato il gol del pareggio. Sicuramente non è stata una partita facile, venivamo dopo un risultato negativo con il Cittadella però alla fine conto il risultato e siamo contenti del pareggio. Fernando Del Sole, l'esordio stagionale con la maglia del Pescara, una bella soddisfazione perché hai contribuito davvero tanto alla conquista di questo pareggio. Sono veramente molto contento ma spero veramente di dare tanta a questa maglia e presto di gioire con questa maglia. Un pareggio importante in una gara, ne parlavamo prima Nanto, in cui il Pescara non ha giocato la miglior partita tu l'hai vista in parte dalla panchina e poi ovviamente dal terreno di gioco, cosa non ha funzionato questa sera rispetto alle altre gare? Anche avete concluso meno in porta rispetto alle precedenti esibizioni? Sicuramente abbiamo avuto meno spazi di altre volte, la squadra era ben composta in campo ma si sapeva che qui era una partita molto dura ma alla fine siamo contenti. Nando Del Sole, dalle Juventus è tornato al Pescara contento comunque di essere tornato alle origini, tornato ad indossare la maglia della squadra che ti aveva lanciato, che ti ha lanciato nel grande calcio. Sono contento perché per me è una sfida, voglio contribuire ad andare in Serie A con questa maglia perché qui è come se fosse casa mia e spero di dare tanto a questa maglia e di far vedere Del Sole veramente chi è. Grazie, grazie a Nando Del Sole.